Giorgio Denardi è stato presentato il bilancio della B Corp, che cosa significa essere una B Corp innanzitutto? Essere una B Corp è una scelta che si pone praticamente come alternativa alle società profit e a quelle no profit, a cui siamo abituati, come un modo di intendere il fare impresa che mette insieme sia l'aspetto economico, appunto della società profit, con anche gli aspetti ambientali e sociali e vanno a rendere molto più ricca e completa l'attività aziendale perché si pensa non solo al valore economico che l'impresa produce, ma anche all'impatto che ha appunto relativamente alle persone e all'ambiente fisico circostante, perché siamo convinti che l'azienda non debba solo pensare al profitto, ma debba pensare a tutto il valore positivo che può generare appunto in termini di qualità di lavoro, crescita del capitale umano, ricaduta sul territorio, possibilità di incidere sul miglioramento dell'impatto ambientale delle aziende, sia noi che i nostri clienti. Quindi da quando siamo nati, già 35 anni fa, noi abbiamo sempre puntato su questi aspetti e adesso con le certificazioni B Corp e con l'assunzione dello status di società benefit l'abbiamo anche certificato, normato e rappresentato anche annualmente in un report dove andiamo a descrivere i risultati ottenuti e le prospettive e gli obiettivi dell'anno a venire, in modo da avere anche una concretezza poi palpabile, misurabile di quello che facciamo. Che cosa fa Aton e quali sono stati gli step per diventare B Corp? Allora noi siamo una società che si occupa di informatica digitale, quindi andiamo nelle grandi, medio-grandi aziende a trasformare i processi organizzativi in forma digitale per ridurre, eliminare quanto più possibile la carta, i trasporti inutili, la dispersione di merci, per esempio lo spreco di merci e la tracciatura appunto dei prodotti, attraverso delle soluzioni che vanno a governare e gestire appunto la parte di vendita e di supply chain logistica. Quindi con l'informatica cerchiamo di far rendere le nostre aziende meno impattanti possibili sull'ambiente ottimizzando il loro processo organizzativo. Qual è la ricaduta di Aton su questo territorio ma anche all'estero? So che comunque avete contatti anche con aziende estere. Sì allora noi per esempio l'anno scorso abbiamo assunto 44 persone, quest'anno ad oggi siamo già a oltre 30 quindi stiamo crescendo molto sia in termini di fatturato che in termini di disponibilità di posti di lavoro. Siamo certificati Great Place to Work quindi siamo considerati uno dei migliori posti di lavoro in Italia e a questa cosa siamo particolarmente orgogliosi e investiamo molto appunto sulle persone. L'impatto è sicuramente molto molto importante soprattutto con le aziende del settore della moda tra cui per esempio abbiamo clienti come Moncler, come OVS, come tante altre aziende del settore della moda e nel settore del food dove abbiamo molte aziende per esempio come Granrolo, Parmalet, Galbani eccetera. E infine un ultimo settore è quello della parte energy dove per esempio Liquigas o altre aziende del mondo del settore del gas utilizzano le nostre piattaforme per ottimizzare appunto l'erogazione dei loro prodotti. lavoriamo anche per l'ONU, le Nazioni Unite, facciamo dei progetti di praticamente monitoraggio dei compound di peacekeeping che loro hanno delle missioni che fanno nei luoghi più critici della terra parliamo di Somalia, parliamo di Congo, parliamo di Sudan, Libano e lì mandiamo le nostre persone installare il nostro software che consente di monitorare ingresso e uscita da questi praticamente compound delle persone e degli asset per monitorare la sicurezza di questi villaggi praticamente. Quindi sono applicazioni molto importanti, cosiddette mission critical, di cui siamo molto fieri perché sono applicazioni tecnologiche molto spinte in un contesto internazionale molto molto importante. L'ultima domanda che le faccio è qual è il futuro di Atom a questo punto? Il futuro di Atom è, spero, almeno altri 35 anni di crescita e di successi. Il nostro evidentemente è un mondo in forte evoluzione, quindi c'è un continuo rigenerarsi di nuove opportunità, nuove richieste. Adesso c'è il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio, che stiamo sposando in pieno e stiamo investendoci parecchie risorse e crediamo della possibilità di poter almeno raddoppiare le nostre dimensioni nel giro di alcuni anni, per cui parliamo tra i cinque anni vorremmo diventare un'azienda da 50 milioni di fatturato, 500 persone e avere soprattutto un riconoscimento, un posizionamento molto forte come il miglior posto di lavoro italiano disponibile. Ecco, questa è la nostra sfida, e avere quanto più possibile un impatto positivo sul mondo. Cioè noi vorremmo giorno per giorno contribuire a rendere il nostro pianeta un luogo migliore dove vivere.